cari amiche e cari amici voglio iniziare insieme a voi le riflessioni sul medioevo con l'inizio del libro simboli della scienza sacra di René Guénon vado a leggervelo la civiltà moderna appare nella storia come una vera e propria anomalia tra tutte quelle che conosciamo essa è la sola che si sia sviluppata in un senso puramente materiale la sola altresì che non si fondi su alcun principio d'ordine superiore tale sviluppo materiale che prosegue ormai da parecchi secoli e va accelerandosi sempre più è stato accompagnato da un regresso intellettuale che esso è del tutto incapace di compensare intendiamo qui beninteso parlare di la vera e pura intellettualità che si potrebbe anche chiamare spiritualità e ci rifiutiamo di dare questo nome a ciò a cui si sono specialmente applicati moderni la cultura delle scienze sperimentali in vista di applicazioni pratiche questo inizio è veramente spettacolare spettacolare perché descrive proprio quello che sta accadendo René Ghenonna scriveva queste cose circa 80 anni fa i suoi libri sono ancora oggi attuali per chi ha una visione spirituale dell'esistenza l'incipit è proprio la civiltà moderna appare nella storia come una vera e propria anomalia tra tutte quelle che conosciamo perché è la sola che si sia sviluppata in un senso futuramente materiale e non si fondi su un principio di ordine superiore il medioevo era esattamente l'opposto si fondava su un principio di ordine superiore e il mondo della materia ritenuto a lungo anche il mondo di satana il regno di satana inevitabilmente doveva essere sul piano inferiore e subordinato a quella intellettualità di cui ci parla Ghenonna che come lui stesso ha detto è sinonimo di spiritualità di conseguenza perché parlo del medioevo come i secoli luminosi perché è chiaro che chi ha una visione strettamente legata alla materia alla manipolazione della materia e a principi scientifici di una scienza degradata esclusivamente a principi di ordine razionale è chiaro che con questo tipo di mentalità si veda il medioevo come secoli bui invece chi ha a cuore i principi di ordine superiore si renderà conto che il vero periodo buio è la modernità proprio perché la modernità ha perso il contatto con ogni principio di ordine superiore e questa differenza non è che avviene di botto si può seguire il percorso anche chi non l'ha letto lo legga questo questo libro simboli della scienza sacra perché è un ripercorrere anche il percorso di questo degrado di una verità che diventa scienza ma scienza intesa come studio e rappresentazione della realtà materiale di realtà sensibile e tutto questo oltretutto viene utilizzato a fini legati all'utilitarismo all'economia e dunque comporta una soppressione della spiritualità perché comporta aspirazioni unicamente materiali l'esatto opposto di ciò che accadeva nel medioevo le conseguenze sono immense occorrerebbero molte playlist per parlarne però è interessante sottolineare che René Guénon già 80 anni fa ci faceva rilevava che gli orientali per esempio provavano nei confronti degli occidentali una sorta di risprezzo e repulsione proprio perché la loro società si fondava ancora su principi sacri anche se adesso con il principio della globalizzazione con la diffusione del pensiero unico e della visione dell'esistenza legata fondamentalmente all'utilitarismo e all'economia è anche in oriente e si è convolti da questa dimensione al tempo di René Guénon pensate solamente 70 anni fa 80 anni fa quando scriveva queste cose e ancora l'oriente soprattutto l'india poteva considerarsi forse l'ultimo baluardo no e quello che era questa visione spirituale dell'esistenza è proprio la visione che c'era nel medioevo in occidente proprio alla visione della cristianità nel medioevo anche se oggi i rapporti si sono rovesciati quindi quella che è realmente una un'età buia questa della modernità esclusivamente perché ci sono una continua innovazione tecnologica e la tecnologia è al vertice della piramide dei valori della del pensiero unico del questo tipo di mondialismo e globalizzazione ebbene e allora il medioevo sembra un'anomalia ma l'anomalia è questa non a caso accennavo in un video precedente che c'è solo un caso di suicidio testimoniato nel medioevo e invece oggi i suicidi si moltiplicano non è un caso questo qui e oggi viviamo una modernità che non sa reggere più i ritmi così veloci e ha bisogno di psicofarmaci dagli anni 70 sono cominciate le benzodiazepine il tavore il valium parole che tutti conoscete perché tutti conoscete perché è quello che il potere utilizza per sedare una società disumana che va troppo veloce che vuol far crescere a tutti i costi i bambini perché devono diventare produttivi e vuol far morire al più presto i vecchi perché non servono nel processo di produttività e pensate che ancora fino alla fine dell'ottocento quando si chiedeva a qualcuno che quanti anni hai ci si tendeva oltre i 40 anni ad aumentare l'età perché ancora il vecchio era considerato fonte di saggezza oggi è considerato un oggetto inutile perché fuori dal processo produttivo e nel medioevo invece non era così erano appunto questi rapporti si sono rovesciati oggi la religione da religio riunisco che è lo stesso concetto della parola yoga che vuol dire unione dalla parola yoga viene gioco è l'attrezzo che univa i buoi no la religione riunisco è considerata un semplice fenomeno sociale nel medioevo tutto l'ordine sociale invece si ricollegava ha l'elemento superiore e quanti cattolici oggi che è l'unica monarchia italiana che si sta sfaldando proprio di questi tempi con il pseudo comunismo bergogliano quanti cattolici accettano questo modo di vedere della modernità senza difficoltà anche perché poi abbiamo un papa che uno pseudo papa un antipapa chiamato noi di pare che il signor bergoglio che favorisce questo processo di materializzazione del cristianesimo basti pensare agli attacchi che ha fatto agli ordini contemplativi che vuole distruggere e che importanza avevano invece gli ordini contemplativi nel medioevo dunque molti cattolici credono di essere sinceramente religiosi senza rendersi conto che ormai la loro idea è indebolita non ha più influenza effettiva sul loro modo di agire e si vive una situazione di schizofrenia dove la fede è separata dal resto della loro esistenza di tantissimi cattolici e allora notiamo come credenti e non credenti hanno lo stesso tipo di comportamento e che il fatto che esista un soprannaturale per la stragrande maggioranza dei cattolici questo è un valore solamente teorico e cattolici che se si trovassero in presenza di un fatto miracoloso sarebbero molto in imbarazzo e quindi questo è un materialismo generalizzato esattamente l'opposto del medioevo dove la visione spirituale riguardava ogni cosa e questo materialismo è ancora più pericoloso del materialismo storico ad esempio di quello di Marx di Feuerbach proprio perché le persone non hanno coscienza che la religione ha perso la portata spirituale che è quello che è sinonimo di portata trasformativa allora mentre nel medioevo la religione era vissuta da tutti a partire anche da come abbiamo visto dai simboli dei rituali di iniziazione dall'organizzazione organica della società oggi c'è questa vaga religiosità che si riduce a una morale superficiale lo spazio della dottrina che era fondamentale nel medioevo e tutta anche la politica si era ordinata in base alla dottrina e oggi è qualcosa di totalmente superficiale se paragonata a quello che era il medioevo in più siamo dal concilio vaticano secondo al signor Bergoglio si ragiona con il fatto che bisogna rendere accettabile la religione alla mentalità attuale e questo comporta le concessioni più assurde lo snaturamento della tradizione anche cattolica e allora vediamo che il papa si rifiuta di partecipare di accogliere coloro che erano i rappresentanti del congresso mondiale delle famiglie e nello stesso tempo dichiara che l'abortista e praticante di aborti Emma Bonino e Giorgio Napolitano comunista implicato poi in affari che adesso lo schiaffare che ci porterebbero fuori del contenuto del video ebbene il Bergoglio dichiara che l'abbonino e Giorgio Napolitano dovrebbero essere riconosciuti come i grandi del XIX secolo i grandi italiani del XX secolo i grandi italiani del XX secolo questa assurdità cioè coloro che bisognerebbe combattere energicamente vengono esaltati coloro che sono gli alleati quelli che hanno fatto il congresso in favore della famiglia vengono invece respinti e tutto questo con l'accechiamento e il pretesto della tolleranza che riduce la chiesa e Bergoglio in particolare ad essere complice di queste contraffazioni della religione e dell'affievolimento dell'insegnamento dottrinale che era essenziale nel medioevo sul quale si fondava la società medioevale ebbene invece questo è sostituito da cosa? Da vaghe considerazioni immoriali sentimentali che potranno piacere pure a Bergoglio ma in realtà sono respingenti verso coloro che hanno aspirazioni reali di ordine spirituale e qui voglio leggervi però altre parole di René Guénon tratte sempre dal libro Simboli della scienza sacra ascoltate si ha certamente torto si ha certamente torto a pretendere come abbiamo spesso udito che nessuno capirebbe un'esposizione della dottrina pura anzitutto perché volersi sempre mantenere a livello più basso come se bisognasse tenere in conto la quantità piuttosto che la qualità ecco amici questo è il problema che abbiamo nel riferimento a Bergoglio la sua apertura guarda sempre alla quantità e non alla qualità continua a scrivere Guénon non è forse questa una conseguenza di quello spirito democratico che è uno degli aspetti caratteristici della della mentalità moderna? D'altra parte si deve proprio credere che tante persone sarebbero realmente incapaci di comprendere se fossero invece abituati un insegnamento dottrinale non si potrebbe anche pensare che coloro che non capissero proprio tutto ne trarrebbero ugualmente un beneficio forse più grande di quanto si supponga e anche qui quanta verità in queste parole di René Guénon e che disastri stanno facendo una chiesa che si prostituisce sempre più al modernismo un papa che riceve Eugenio Scalfari un massone del suo miglior amico e che si abbassa il livello abbassa il livello tant'è vero che vuole scardinare anche l'aspetto gerarchico Bergoglio non a caso cosa che invece era fondamentale nel medioevo e nel medioevo sicuramente oggi si parla di analfabetismo di ritorno ma nel medioevo la percentuale di analfabeti era altissima ma non per questo il pontefice il papa rinunciava ad affermare una dottrina e a volte con ragionamenti molto sofisticati pensiamo al sant'agostino pensiamo a sant'ommaso e dunque oggi paradossalmente con i valori capovolti c'è una diffidenza nei confronti della spiritualità c'è andato prima a Bergoglio che vuol chiudere gli ordini contemplativi nei fatti ha cominciato questo processo e pensiamo invece all'importanza che avevano gli ordini contemplativi e i benedettini nel medioevo e dunque una spiritualità incontaminata dallo spirito moderno che non sa più cosa è la vera spiritualità e che confonde l'intellettualismo con l'irrazionalismo cioè l'intellettualismo non è più legato all'intellettualità intesa come capacità di cogliere anche la trascendenza delle verità superiore l'intellettualismo e l'intellettualità è stata totalmente snaturata perché legata al razionalismo e allora ecco che si accetta il gioco degli avversari dei nemici dei materialisti e invece è importante restaurare la vera spiritualità io con questi video anche sul medioevo cerco di dare un piccolo contributo io non sono nessuno sono un modestissimo maestro elementare non è che posso fare più di tanto però sono contento che questi che ci siano qualche centinaio di persone che guarda questi video e che ricevo molte lettere in privato che mi dicono marco cosmo mi stai aiutando perché sto vedendo la realtà sotto in altro modo mi stai abituando a ragionare in altro modo e qual è quest'altro modo è quello di considerare la religione come religio come riunione di noi stessi con la parte più profonda di noi stessi e anche se non c'è un contesto fantastico come era quello del medioevale però possiamo almeno individualmente non tradurre la nostra religione in una devozione superficiale e sentimentale e consolatoria ad uso di animi totalmente indeboliti dalla sofferenza e quindi non si tratta di rinnovare di cambiare la dottrina della chiesa adeguarla alla modernità come si è cominciato a fare con il concilio vaticano secondo e gli effetti si vedono delle terre se ne vedono oggi ma si tratta di ritornare alla tradizione dal quale ci si è allontanati e quindi di ritrovare tutto ciò che si è perduto con questa mentalità moderna e non a caso ho dedicato un video sui simboli e noi dobbiamo recuperare anche noi per esempio con i miei allievi di meditazione c'è questo recupero relativamente al simbolismo per esempio al significato dei simboli comprendere i simboli anche perché la nostra produzione onirica è legata ai simboli e quanta importanza si dava sin dall'antica roma ai sogni e anche nella bibbia quanti sogni quanti sogni cambiano poi il comportamento degli degli uomini pensate a san che stava andando si alzava allontanando da roma e sogna gesù che gli dice e lui dice a gesù domine covadis signore dove vai e gesù gli dice vado a roma per essere crocifisso e san pietro cambia itinerario si rigira si rivolta e ritorna verso roma e lì sarà crocifisso e se il simbolismo è compreso anche la produzione onirica è incompresa noi dobbiamo insistere su questo recuperare la nostra intellettualità recuperare la nostra spiritualità il significato reale dei simboli tradizionali che sono simboli immortali in quanto appartengono realmente all'uomo e noi dobbiamo restituire tutta la portata intellettuale che possiedono questi simboli invece di ridurli a una sorta di passatempo da salotto o curiosità storica ed è per questo anche che sto facendo questi video sul medioevo ecco e tornando in maniera più specifica al medioevo e riprendendo il discorso che avevamo interrotto lo sviluppo degli stati nazionali non comportava necessariamente l'abbandono della concezione mediovale di sovranità pensiamo ad esempio a santa giovanna d'arco che agisce proprio nel momento in cui gli stati nazionali affermano sulle rovine di quella che era la civiltà mediovale che andava spegnendosi poi ci sarà un barlume un ritorno ma poi successivamente il processo di decadenza andava avanti ma giovanna d'arco è proprio la personificazione possiamo dire della sovranità mediovale che trova proprio una delle massime espressioni nella azione di giovanna d'arco ed è proprio la missione che santa ricordiamolo giovanna d'arco e la mission la sua mission è quella di riconquistare prima che un territorio una concezione sacrale della politica e della sovranità quello che vi stavo dicendo e tutte le sue parole tutta la sua condotta le sue azioni mettono in evidenza questo fatto il pensiero di giovanna d'arco la missione principale di giovanna d'arco era quella di far tornare gli animi e negli animi e soprattutto nella nella spirito del re del sovrano e questa nozione di spiritualità di politica legata alla spiritualità e anche il fatto che il delfino che era l'erede al trono doveva essere consacrato e che il re che aveva ricevuto la consacrazione da era doveva continuare ad essere un bassallo di gesù cristo e governare dunque la sua terra e il suo feudo in nome e secondo la legge del sovrano sì ma essendo cosciente di essere sempre subordinato al re del re a gesù cristo quando io ero giovane hanno tolto hanno cominciato a togliere i crocifissi da i tribunali il giuramento che si faceva sulla bibbia hanno cominciato a levare i crocifissi dalle aule ma rispetto ad esempio alla politica nella legge nessun giurista medievale sarebbe mai in corso nella nella questa confusione della modernità legata al termine legge l'ex con l'ex si può intendere sia la legge naturale o divina che la legge positiva elaborata dagli uomini nella concezione moderna la fonte della legge è il popolo perché c'è stato un abbassamento un livellamento in basso la sovranità del popolo non deve essere limitata da nessuna autorità superiore ma questo fa parte dello stravolgimento dell'antitradizione nella concezione medievale al contrario il sovrano era la fonte della legge civile ma era sottomesso alla legge naturale divina a cui ogni legge umana deve uniformarsi il gender che fa prevalere un'idea della sessualità legata alla razionalità invece che all'elemento biologico non sarebbe mai stato possibile nel medioevo così non sarebbe stata possibile l'unione tra gli omosessuali che adottano un bambino perché si teneva d'occhio la legge naturale che oggi è disconosciuta anche nella dimensione mediovale il legislatore non è che creava la legge come si fa oggi ma la scopriva nell'ordine naturale e nella volontà di vita ma così erano tutte le società tradizionali anche nell'antica roma nell'antica grecia e tornando al medioevo quindi il legislatore doveva scoprire nell'ordine naturale la volontà di dio in caso di conflitto tra legge umana e volontà di dio bisognava obbedire a dio e non agli uomini e questo era il punto di riferimento tradizionale che ordinava la società mediovale e se non si studiano queste cose non si comprende il medioevo per questo il medioevo è molto facile che poi venga etichettato come età oscura bisogna mettersi in testa che per gli uomini del medioevo il principio sul quale si fondava ogni forma anche di autorità dello stato era il principio di giustizia legato a qualcosa di superiore cioè l'autorità è giustificata perché rappresenta il principio di giustizia e quindi ricerca sempre il legame con la natura e mantiene la giustizia coesciente di essere subordinato a dio e al divino e quindi supremazia della giustizia significava supremazia della legge che andava ricercata nella legge naturale e questa concezione a base della struttura mediovale e allora il re sotto la legge sotto le leggi doveva rispettarle tutte perché la legge naturale quella divina coincidevano e anche la legge positiva del suo regno dove erano anche comprese le usanze e i privilegi sia del re ma anche del suo popolo era racchiusa sempre nella in questo tipo di visione molti hanno scritto sul fatto di delegibus soluto cioè solutus delegibus solutus cioè il sovrano che è sciolto dal dalle leggi no e l'hanno presa come quasi un fattore che il sovrano potesse fare quello che voleva ma in realtà quasi tutti erano d'accordo che bisognava intendere questa frase de legibus solutus cioè sciolto dalle leggi non vincolato dalle leggi intendere questa frase nel senso che il re era spinto a osservare la legge non da qualunque sanzione giudiziaria esterna ma semplicemente dalla sua buona volontà cioè dal suo innato senso di giustizia e allora non c'è re dove la sua volontà si sostituisca alla legge che era legata alla legge naturale e quindi a dio e questa è un principio che impregna l'intera struttura costituzionale della società mediovale e gli uomini sono sottomessi al re e il re è sottomesso a dio e alla legge perché è la legge che fa il re in quanto legge che ritroviamo nella natura e non il re che fa la legge è un totale capovolgimento poi di quello che è accaduto nella modernità e dunque quello che fa il re non è la sua persona ma è il diritto e questo fu confermato anche in un concilio che ci fu nel 633 il quarto concilio di Toledo allora la posizione secondo cui l'autorità del re e l'autorità della legge è proprio caratterizza l'intero visione medievale e l'intero diritto medievale e questo principio trovava proprio la sua espressione concreta e fattiva nelle cerimonie di incoronazione dei sovrani che all'atto del giuramento dovevano rispondere alle domande del vescovo che celebrava il rituale e il re si impegnava a difendere a sostenere la fede cattolica agire cristianamente secondo giustizia conformemente alla legge divina e naturale faceva parte del rituale di iniziazione del re di consagrazione del re e dunque in questa cerimonia è implicito un patto stipulato innanzitutto con la chiesa nella persona del pontefice subordinato a dio e in secondo luogo con il popolo che ha diritto di essere governato attenzione in base a principi della legge naturale e non semplicemente come nella modernità a principi prettamente razionali e materialistici riprenderemo questo discorso per il momento è tutto un caro abbraccio marco cosmo